Benvenuti in questo nuovissimo e bellissimo video di Tartamillo Notate la qualità migliorata, molto migliorata dallo scorso video? 4k finalmente Perché ho ripreso la mia Canon Che l'avevo portata in assistenza e finalmente è tornata Vedete? Quindi da oggi in poi i video saranno di nuovo di qualità alta 4k Cioè in realtà 1080 perché Youtube fa qualità 1080 però Godo Posso rifare i video bene? Posso farvi rivedere le tartarughe Da vicino Nel dettaglio Poi dato che nello scorso video abbiamo montato questo per la tartaruga che non ho più trovato Se non l'avete visto andate a vedere lo scorso video Le tartarughe che stavano qui Le ho spostate qui per adesso Ci ho messo anche quella, ho messo le più grandi così hanno una bella piscinetta per nuotare E sono felici Comunque sono troppo contento Ho perso una ciabatta, ho inciampato nel tubo Perché sto riempiendo il laghetto Dato che era un po' evaporato col caldo Da oggi in poi rivedrete i pesci molto meglio Perché con la macchinetta che stavo usando prima intanto che mi ritornava questa Non si vedevano bene perché faceva schifo, non lo so Quindi godo di nuovo Comunque questa è la macchinetta che usavo prima per fare i video In questo periodo che non avevo questa grande Era una Sony Mentre adesso ho questa Questa macchinetta è molto meglio Quindi diciamo questo era l'annuncio speciale E poi anche ora posso tornare a fare i video dentro casa Perché quella macchinetta vecchia Dentro casa faceva video tipo tutti brutti Non so perché Non metteva a fuoco Invece questa mette a fuoco Quindi nei prossimi video Riallestiremo l'acquario dei miei Tiger Oscar Se volete vederlo iscrivetevi Poi potrò fare più video su Alberto Il Betta E poi anche un video sui pesci rossi Quelli piccoli di due video fa mi sembra Per i quali andrò a fare un video completo Per la gestione e tutto Quindi iscrivetevi per non perdervi questi video Quindi questo video era per dirvi che Da oggi i video saranno molto migliori Sia in contenuti sia in qualità Perché infatti andremo a riallestire l'acquario dei Tiger Oscar Vi farò il video dei pesci rossi Ed inoltre voglio fare anche un video Tutti i miei animali Ho aspettato per farlo Perché appunto volevo riprendere questa macchinetta per farlo Sarà una cosa molto professionale Con un cameraman Quindi iscrivetevi per favore Mettete like al video per favore Sempre vi prego Di solito faccio una foto del video Ovvero una foto che voi mi mandate su Instagram Delle vostre tartarughe Pesci Quello che volete E la metto alla fine del video Anche cani Gat Tutti i vostri animali Potete mandarmela su Instagram E di solito la metto alla fine del video Ma oggi non la metto Perché è un video un po' a caso Per darvi questo annuncio Quindi il video finisce qui Molto più corto del solito Ci vediamo nel prossimo video Ciao Ciao